Ciao a tutti, quella che vedete qui davanti a voi è la spugnetta della Real Techniques Miracle Sponge, se non erro si chiama così, Miracle Complexion Sponge. È una spugnetta da applicazione, fondamentalmente da applicazione di fondotinta, ma può essere utilizzata anche per il blush, per la terra o per le ciprie. La prima che uscì o che comunque ebbe successo in Italia fu sicuramente la Beauty Blender. Io già ai tempi ero tentata, non l'ho poi però mai acquistata, soprattutto per il prezzo e per il fatto che, per quello che sentivo, si rovinava davvero, davvero molto velocemente, sia a livello di strappi e appunto materiale corroso in qualche modo, sia a livello di muffe interne. Così ho archiviato l'idea di acquistare questa spugnetta, fino a che è uscita invece ed è diventata più reperibile più facilmente in Italia, questa della Real Techniques. Mi sono trovata bene anche con loro altri prodotti e avevo anche sentito parlare spesso di questa spugnetta come superiore rispetto alla più famosa Beauty Blender. La differenza sostanziale credo sia, a livello estetico chiaramente, al di là del colore, nella grandezza e nella forma. La Beauty Blender è a forma di uovo, questa invece ha una forma un po' più particolare, è come se fosse appunto un ovale, tagliato però con una sezione da un lato, una sezione piazza da un lato. Io vi dico, ho acquistato questa spugnetta a settembre a Torino da Melissa e l'ho pagata 7 euro e qualcosa, o 7 euro e 85, o 7 euro e 15, non ricordo di preciso e neanche ho più la confezione esterna di plastica per potervelo controllare. Comunque l'ho pagata meno di 8 euro, la utilizzo quindi da settembre, settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio, stiamo alla bellezza di 9 mesi e ancora non si è rovinata per niente. Sul sito consigliano di cambiarla ogni 1-3 mesi, io sinceramente finché non si rovinerà, non si strapperà, non si faranno muffe o altro, continuerò ad utilizzarla. Purtroppo vedete che è macchiata, io la lavo ogni giorno, quindi dopo ogni applicazione lavo la spugnetta, ma comunque le macchie non vanno totalmente via. Adesso io non so se sbaglio modo di lavaggio, ma non credo, credo più semplicemente che appunto essendo un materiale estremamente poroso, vada così come assorbe i prodotti, assorbe anche chiaramente i colori e i pigmenti degli stessi, restando macchiata. Il primo utilizzo che ne ho fatto per più tempo diciamo così è stato quello appunto della classica applicazione del fondotinta. La spugnetta adesso la vedete umida, quindi è leggermente più grande di quello che è in realtà. Viene appunto, va bagnata, nel momento in cui si bagna va ad aumentare il volume e per utilizzarla per l'applicazione del fondotinta dovete utilizzarla non trascinandola sulla superficie, ma andando a tamponare e a timbrare il prodotto stesso, quindi applica, io, almeno io personalmente applico dei puntini di fondotinta sul viso e poi con questa vado a fare questo movimento rotatorio e vado a distribuirlo su tutto il viso. Non lascia alcun tipo di striatura, alcun tipo di macchia, l'effetto è bello perché è leggero ma può essere stratificato se lo si ripassa più volte. L'effetto è piuttosto naturale, molto più naturale dell'applicazione con le mani o dell'applicazione con il pennello. Io lo utilizzo con il mio fondotinta abituale che è il Revlon 24 ore il color stay e non mi ha mai dato problemi e l'applicazione viene davvero bella. A me piace molto perché appunto come vi dicevo se ne faccio uno strato appunto leggero, quindi un solo strato, il risultato è decisamente naturale. Chiaramente se avete molte imperfezioni o moltissime discromie da coprire potete tranquillamente andare a ripassare più strati di fondotinta sempre con lo stesso movimento fino ad ottenere la coprenza che desiderate. La cosa che è molto comoda è sicuramente anche la forma che permette proprio perché ha questo taglio, quindi questa parte piatta, questa più sottile, questa più a punta, di arrivare davvero ovunque, quindi potete arrivare tranquillamente intorno al naso, sotto gli occhi, se decidete di non truccare o comunque di non truccare la parte superiore degli occhi, di andare anche sulla palpebra in modo molto molto comodo. Quindi davvero arrivate in qualsiasi punto. Chiaramente potete utilizzarla anche per sfumare altri prodotti liquidi come ad esempio può essere un correttore nella zona occhiaie. Quello che trovo io anche comodissimo è l'applicazione della cipria con questa spugnetta. Come vi ho già detto nel video della cipria puro bio, a me piace moltissimo applicare la cipria con questa spugnetta per avere un effetto pelle perfetta. Perfetta chiaramente sempre rispetto, insomma comunque diciamo così, più che perfetta migliorata e di molto rispetto alla situazione di partenza. I pori vanno a riempirsi e tutto il viso appare molto più levigato. In questo caso io che cosa faccio? Per applicare la cipria uso questa parte piatta. Quindi prelevo dalla confezione quindi della cipria, ne prelevo un po' e così come faccio per il fondotinta vado a stamparla nella parte desiderata. Quindi faccio lo stesso identico movimento stampo e vado di rotazione e l'applicazione è decisamente perfetta. La cipria e quindi la base in generale dura molte molte più ore anche tutta la giornata rispetto all'applicazione con pennello. Non si va incontro all'effetto lucido o comunque rilascio di sebo o comunque si avviene in modo molto più leggero e quindi si ha la tranquillità anche se si sta fuori tutta la giornata. Non si possono fare ritocchi per diversi motivi. Si ha la tranquillità di poter non andare in giro come una palla da discoteca. Ecco diciamo così. Quindi ripeto per me questo prodotto è valido quindi in base a tutte le cose che vi ho detto è sicuramente valido. Certo unica nota negativa è che va di sicuro a consumare più fondotinta rispetto all'applicazione con un pennello o ancora più con le mani. Però insomma questo va poi ognuno valuta se è il caso o meno di utilizzarla. Comunque non è mai un consumo eccessivo. Non assorbe tantissimo prodotto. Comunque vedete che qui è macchiata ma comunque l'ho utilizzata in ogni sua parte quindi non ha poi assorbito così tanto prodotto. Ripeto ce l'ho da settembre. Quindi che dire per me è più che promossa. L'ho presa quasi per sfizio ma a questo punto sono sicura al 100% che l'acquisterò di nuovo. Non appena questa inizierò a vedere i cenni di decadimento tornerò ad acquistarne una nuova anche perché diciamo che adesso è anche abbastanza semplice reperirla. Al di là dei siti come può essere non so ma Chiaia o Amazon stesso. Moltissime più profumerie adesso vendono il marchio. La Queen, l'OVS. Li vendono. Insomma molti molti punti vendita iniziano a rivendere la Real Techniques. Quindi insomma è decisamente facile da reperire. E poi oltretutto questo io per quel che ho letto e sentito dire è superiore appunto anche alla più famosa Blender sia per un discorso prezzo sia per un discorso forma sia per la durata nel tempo sia per il discorso muffe che a quanto pare essendo più porosa, almeno così ricordo di aver letto, la Beauty Blender tende a catturare più prodotto e di conseguenza a formare muffe all'interno. Quindi per me quella è ormai la Blender e la Beauty Blender è totalmente esclusa. Non conto di acquistarla ma continuerò ad acquistare sicuramente questo prodotto che trovo davvero davvero utile. Non l'ho mai utilizzata per il blush e per la terra. So che può essere utilizzata tranquillamente, del resto sono polveri come la cipria. Quindi immagino insomma non ci siano problemi. Su quello quindi non so dirvi. Per il resto assolutamente un prodotto consigliato.